buongiorno salve a tutti voi fuitori di youtube satirius allora perché perché pubblico questo mio video per parlarvi di arte arte non è un business arte è comunicazione comunicazione da parte dell'artista e funzione da parte di tutti voi arte non sono soldi arte è qualcosa di molto serio quando vi parlo di arte vi parlo di comunicazione ma comunicazione seria comunicazione emotiva intellettuale etica morale e filosofica arte qualcosa di molto serio non è un business e lo hanno trasformato in business ma arte non è business di certo quando van Gogh dipingeva o o o modi ovvero sia modigliani aveva modigliani dipingeva o o tanti tanti russo scile mica pensavano i soldi era un bisogno personale di esplicare un loro una loro emozione un loro pensiero questo è l'arte e voi avete distorto tutto quanto arte non sono soldi non è un business se fai arte la fai la fai perché 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 ne hai bisogno è come una droga per l'artista e voi dovreste un attimo fruire le loro comunicazioni solo che non le fruite non riuscite più a fruire niente arte non è un personaggio come baschi baschi è un poveraccio è un'associazione delinquere sono sono 5 6 10 persone supportate da da dal potere quindi mai arrestati per il loro murales del cazzo ma uno come baschi non è arte l'arte l'arte vera è benanto l'arte vera è porca dalle miseria ce ne sono tanti artisti veri è l'arte che vi può salvare è la bellezza è l'intuito è la comunicazione che vi può salvare arte è come tutto insensolato quindi pittura scultura grafica fotografia narrativa letteratura filosofia musica classica e moderna è solo l'arte che vi può salvare oggi parlano tanto di intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale che mi distruggerà è quella che mi distruggerà è quella che vi farà perdere l'animo la vostra anima la perderete l'avete già persa in verità il 200 300 400 500 600 grandi secoli il 900 un grande secolo non c'è più niente adesso adesso vi rivolgete all'intelligenza artificiale le macchine elettriche non avete molto tempo davanti a voi nella maniera più assoluta continuo a ripetere il punto di non ritorno ma il punto di non ritorno è stata la fine del 900 ormai stiamo a un punto di non ritorno perdonatemi io l'artista l'ultimo artista vero vi dico voi siete un branco di amebbe senza personalità e questa è l'unica verità e la mia verità